Signora Mia è un romanzo epistolare moderno, con mezzi moderni, che parla di relazioni tra persone, tra donne e uomini, tra donne e donne. Ha un uso di cucina, perché il linguaggio comune tra queste persone che si scambiano messaggi è la cucina, che per noi, per me e Francesco Nicchiarelli, vuol dire soprattutto affetto. È un mezzo di comunicare il nostro modo di essere e di voler bene alle persone. Il libro parla dell'incontro di due persone, un incontro che avviene in maniera fortuita, ma queste due persone poi trovano un linguaggio comune che va oltre quello della cucina, parte dalla cucina e passa ad un ragionamento più intimo che appunto genera poi la storia, una storia in cui succedono cose. Il libro è nato così in realtà, è nato da un incontro dei due autori, di noi due, accaduto molto tempo dopo che ci eravamo conosciuti da ragazzi, quindi dopo molti anni, ci siamo incontrati parlando di cucina e sulla base di questa strana esperienza, anche a distanza, abbiamo scoperto che c'era una storia che si poteva raccontare, per cui è venuta fuori signora mia. Grazie a tutti.